Già in passato la nostra socia Maria Teresa Bagnaresi aveva fatto una donazione molto importante alla Fondazione, una donazione che poi è confluita nel Museo Etnico Bagnaresi, a lei intitolato, più di 2700 opere che provengono praticamente da tutto il mondo, da tutti i continenti e questa donazione continua a dare lustro alla Fondazione perché recentemente sono stati donati altri 40 avori, pezzi molto importanti che arricchiscono non soltanto il Museo Etnico presso la sede della Fondazione ma anche il Museo di Scienze Naturali presso Palazzo Bracci Pagani. Una testimonianza questa che certifica la credibilità della Fondazione come soggetto destinatario di beni storici e culturali? Non solo, secondo me interpreta anche quel senso di comunità che cerchiamo di sottolineare e di promuovere nel nostro territorio. La signora Bagnaresi con questa donazione conferma appunto che la Fondazione può essere un soggetto credibile che nel tempo possa continuare a erogare anche attraverso le donazioni dei propri componenti. Grazie! Grazie!